Rimangono sempre gli stessi, anche se è bene sottolinearli, i consigli utili per evitare il contagio da coronavirus diffusi dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità e ribaditi dal Direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piacenza, Andrea Magna Cavallo. Bisogna cercare di evitare luoghi pubblici affollati, bisogna cercare di evitare i contatti stretti, quindi utilizzare una distanza di un metro e mezzo, evitare di toccare, baciare, salutare con stretta di mano le persone, lavarsi sempre le mani perché il veicolo mani è un veicolo importante di infezione. Da evitare inoltre il contatto di occhi, naso e bocca con le mani. Occorre inoltre ricordarsi di coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico, pulire accuratamente le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Usare la mascherina solo se sospetti di essere malati o in caso di assistenza a persone malate. Utile ricordare che gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus. In caso di sintomi come febbre alta, ricordarsi di non andare al pronto soccorso, ma telefonare al proprio medico di famiglia o al 118. Nel caso di sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratorie o dolori muscolari, chiamare il numero verde 1500. Intanto grazie ad uno sforzo della protezione civile e della regione siamo riusciti a montare questa struttura mobile che di fatto tecnicamente si chiama PMA, cioè una postazione medica avanzata, dove intendiamo a partire da questa sera, dalle ore 20, quindi dal turno notturno, intendiamo fare un'attività di triage. Quindi qualsiasi paziente che accede all'ospedale, sia con mezzo proprio che con l'ambulanza, che a piedi, verrà valutato primariamente presso questa struttura da personale competente, medici, infermieri. Si farà un triage in modo da garantire sicurezza e quindi far accedere all'ospedale coloro che non hanno, per esempio, nessun tipo di problema rispetto alla ipotetica infezione, per esempio un paziente che ha una frattura di femore, oppure garantire dei percorsi protetti a pazienti che eventualmente hanno il sospesto di una infezione da coronavirus. Grazie a tutti.